Ora si parla di una riforma, quella del Premierato, che, se approvata, travolgerebbe completamente l'ordinamento politico al nostro Paese, che passerebbe da un regime parlamentare a uno presidenziale. Evidentemente il mito dell'uomo solo al comando non è morto, come molti di noi pensavano e speravano. Anche l'autonomia differenziata... Anche l'autonomia differenziata, la cui strada è stata purtroppo aperta alla riforma del 2001, provocherebbe, se applicata in tutti i 23 campi possibili e nel modo in cui se ne parla, delle conseguenze irreparabili per l'unità della nostra Nazione. Anche le complesse vicende del confine orientale, cui prima si accennava, continuano a essere strumentalizzate per portare acqua alla propria parte politica, spesso con autentiche manipolazioni di quanto è stato. Quando ci renderemo conto di quanto piccola sia l'Europa, pur se madre, la civiltà occidentale, capiremo che solo rinunciando alle chiusure ideologiche e allo spirito revancista ci sarà un futuro per noi europei? Oggi poi che l'emigrazione da altri continenti sta aumentando? Non capiamo neppure che nell'autunno demografico, e soprattutto l'Italia sta vivendo, mentre per esempio la Francia ha livelli di natalità ben più alti, l'integrazione è necessaria. Anche questo è detto nella nostra Costituzione, ovviamente nelle forme che risentono dell'epoca in cui è stata scritta.